Mistificazione digitale, l'apocalisse per religioni e spiritualità. Amici di Come Don Quixote, ben ritrovati con il Tecno-Ribelle. L'ignaggi millenari, popoli indigeni e spiritualità, dogmi secolari e religioni prede privilegiate della transizione digitale apripista del transumanesimo, l'apocalisse pianificata nel grande resettaggio dell'umanità. Nell'incomprensione generale di praticanti, osservanti e ignari fedeli, l'operazione mistificazione di sacria metafisica sta infatti passando attraverso la trasposizione artificiale dei piani, in cui la finzione prevale sul vero e sul rito grazie a realtà aumentata, robotica e intelligenza artificiale, strumenti prediletti della cancel culture, la cancellazione dell'identità culturale. A Parigi si è appena tenuto Paua, tecnologie antiche e futuri a confronto. In solito raduno da 32 nazioni, tre esponenti religiosi e spirituali persino dall'Amazzonia, e imprenditori dell'iTech, compreso quel Tony Fadel, padre dell'iPad, dell'iPhone e dell'Internet delle cose del 5G. Raduno internazionale parigino, dove Web 3.0, metaverso Bitcoin e cosiddetti algoritmi del risveglio, si sono ereticamente amalgamati con la sapienza indigena per esplorare un futuro ibrido a misura di cyborg. Paua riguarda la creazione di connessioni tra il mondo materiale e regni spirituali, ci dicono, preparati a esplorare il futuro capendo come la coscienza possa essere la base fondamentale per condurre all'autotrasformazione che ambisce ad ergersi come movimento di cambiamento. Cambiamento che in realtà è già iniziato anche tra i cristiani cattolici e all'interno dell'unione buddista italiana. Dopo la fondazione Renaissance, cioè Rinascimento, dove AI sta per intelligenza artificiale, che con le nuove tecnologie sono un dono di Dio, parola di Papa Francesco, ora tocca al Cyber Buddha, dialogo sull'intelligenza artificiale, tema forte del prossimo festival Mimesis di Udine. Nel prossimo futuro lo sviluppo esponenziale dell'intelligenza artificiale è destinato a cambiare le nostre vite, scrivono i buddisti italiani disposti a riconsiderare in ottica tecnologica millenni di tradizioni del Siddhartha Gautama. Sono ormai pochi i decenni che ci separano da un'intelligenza artificiale in grado di eguagliare e persino superare il pensiero umano. In pratica, ce lo dicono tutti, siamo al sorpasso e così, se già nel 2020 il Vaticano ha promosso la conferenza su etica e robotica, il collegamento tra Bibbia e intelligenza artificiale, il nesso tra fede e tecnologia, è tema di un articolo su Agenda Digitale, a firma di Don Luca Peyron, teologo dell'Università Cattolica Apostolato Digitale Diocesi di Torino. Il binomio cristianesimo e intelligenza artificiale, scrive il tecnoteologo, rivela l'esistenza di un nesso attendibile dal punto di vista credente e culturale tra la fede in Gesù Cristo e l'intelligenza artificiale, tanto che i gesuiti della compagnia di Gesù si sono sentiti di dedicare all'intelligenza artificiale la monografia Accenti di Civiltà Cattolica, dove si parla di praticabilità e possibili principi di un umanesimo digitale, che significa che non è complottismo né fantascienza, ma che siamo tutti sotto attacco, perché se dopo i governi pure il mondo religioso-spirituale è disposto e disponibile al ricatto della transizione digitale mimetizzandosi dietro sterili compromessi e futuri spartiacque evolutivo-esistenziali, vuol dire che a breve la tecnoclonazione dell'identità potrebbe disumanizzarci nel progresso tecnologico spingendoci nel tramonto dell'umanità per l'alba del transumanesimo, con la complicità di clero, teologi e spiritualisti a suoi fatti. Ma non è detta l'ultima perché se in un tempio in Giappone c'è già un monaco robot e a Pechino, un sacerdote androide, e in Germania a Wittenberg, dove la teologia un tempo la insegnava Martín Lutero, oggi un prete robot con touchscreen e luce LED dalle mani impartisce e benedizioni in cinque lingue. Per fortuna 9.000 sciamani russi degli orchi hanno celebrato un rito contro l'instaurazione del nuovo ordine mondiale, Aho Mitakuje. Oiasin, per approfondimenti e maggiori dettagli vi rimando a Stop 5G, Salute Ambiente, Geopolitica, Privacy, Transumanesimo e Controllo Sociale, libro inchiesta sui lati oscuri del futuro digitale Terra Nuova Edizioni, oppure sul sito di aggiornamento naturale www.asisana.com. Appuntamento alla prossima puntata del Tecno Ribelle e un caro saluto a tutti da Maurizio Martucci.